Assessore Scocci Marro, anche quest'anno Fratelli d'Italia in Piazza Goldoni per la raccolta solidale? Sì, è una tradizione che viene da lontano, da quando militavo da ragazzo con la destra, ma Fratelli d'Italia ha raccolto questo testimone e continua a portare la raccolta di questi beni per Natale, regali per i bambini a San Nicolò, ma anche tutto l'anno l'impegno continuo nei confronti dei triestini, delle famiglie triestine italiane in difficoltà. Quindi andiamo in questo senso, tanti si dimenticano anche che abbiamo a Trieste una città comunque in cui il tenore di vita è buono, è discreto, ci sono comunque persone, famiglie di difficoltà, i bambini che possono passare un Natale meno felice. Noi ci impegniamo nel nostro piccolo a portare un contributo piccolo ma significativo e anche un segno perché di ricordarci anche degli altri e di chi magari è meno fortunato e meno felice di noi in questo Natale, auspicando che con questo piccolo gesto abbiano un sorriso in più.